Cari amici di Teramo Web, oggi è una puntata, grazie Salvatore intanto di essere presente ancora con noi, la puntata con l'Araldo oggi è veramente difficile, non per qualcosa, perché gli argomenti sono veramente tanti, tanti e interessanti e quindi iniziamo subito guardando la prima pagina dell'Araldo come è duopo per noi e nella prima pagina dell'Araldo vediamo anche un articolo riguardante i precari e i poveri. Ora Salvatore, precari e poveri come portate voi nell'articolo, questa nostra situazione è veramente drammatica perché siamo gli ultimi in questo momento, perché con gli stipendi non si arriva a fine mese, insomma è dura. Purtroppo sì, torniamo ancora nell'argomento veramente scottante oggi della povertà, strettamente legato al discorso della povertà e dell'emergenza, poveri, strettamente legato all'emergenza lavoro. Tra le cose più evidenti, tra i paesi dell'Ocse, noi siamo in coda ad avere i salari più bassi. Una buona percentuale dei nostri lavoratori, se è l'unico reddito familiare, non riesce ad arrivare, pur lavorando, non riesce ad arrivare a fine mese. Questo non è poco. E ammonte poi, se vogliamo, potremmo dirne chissà quante ancora, però ammonte la precarietà del lavoro. Anche chi ha il lavoro, il lavoro è precario. Sì, negli ultimi tempi la percentuale degli occupati è aumentata, lievemente è aumentata, ma è aumentato tantissimo il lavoro precario, il lavoro a tempo determinato. Questo cosa significa? Che sull'aumento degli occupati incide anche quel lavoratore che si ritrova con un contratto per due mesi, tre mesi o sei mesi e magari poi non rinnovato, nemmeno a tempo determinato, men che meno rinnovato, trasformato, pardon, a tempo indeterminato. Si parla di contratti di lavoro che rimangono a tempo determinato al 40%, al 60%, oltre la metà rimane a tempo determinato. Ora è certo che dietro probabilmente c'è anche un discorso di politica fiscale, dei calcoli, dei vantaggi che hanno le imprese assumendo, licenziando, riassumendo. Adesso non voglio entrare in questi particolari perché tra l'altro io non sono un tecnico e non sono un esperto di materia. Io leggo soltanto i dati, la situazione e cerco di raccontare come questa sia una situazione veramente drammatica. Io credo che questo governo, come qualsiasi altro governo, deve seriamente prendere in mano la situazione del lavoro, la verifica di come si sviluppa la dinamica di tutto il mercato del lavoro, non tante a partire da quello italiano e anche quello europeo se vogliamo, ma a partire da quello italiano. E qui potremmo anche aggiungere tutti i problemi e i limiti del reddito della cittadinanza, Stavo proprio intervenendo per quello. Ti ho anticipato la domanda. Sì, nel senso che è coinvolto anche il reddito di cittadinanza. È certo, però sta di fatto che, e qui mi dispiace, ma l'unico a parlare con chiarezza su questo argomento, non voglio fare adesso chissà che cosa, è Papa Francesco che parla di necessità, urgenza del lavoro perché è strettamente legata alla dignità della persona. D'altra parte, se vogliamo l'esempio più semplice, più balordo, quando ci incontriamo con una persona che non conosciamo, ciao, come ti chiami e ti dico come mi chiamo, l'altra domanda che sorge spontanea è che lavoro fai? Perché? Perché fa parte di noi stessi, fa parte della nostra identità, l'essere nell'anche svolgere un'attività lavorativa. Io vedo in questo, sai, Salvatore, anche un problema purtroppo difficile da risolvere, cioè sarebbe molto utile fare entrare più giovani e fare andare in pensione chi ormai ha fatto la solittività lavorativa, però invece si sta andando sempre in più in là per la pensione, per vari motivi, per tutto quello che vogliamo dire, però questo è anche un limite al ricambio generazionale, quindi i giovani che vogliono entrare trovano poco, quindi dei ritagli, ecco perché poi sono tutti i lavori precari, sono dei ritagli e molti giovani si inventano anche il lavoro, perché non sanno più come fare e anche viene inventato, quindi come dicevi giustamente tu, il Papa parla di dignità, una dignità che ci vuole, però io mi domando anche, c'è una soluzione in questo momento? È difficile, sia una soluzione molto difficile? Certamente comunque trovare la soluzione, ci sono tante ipotesi, io credo che la cosa migliore sia mettersi attorno a un tavolo tra governo, parti sociali, i rappresentanti delle imprese per trovare una soluzione equa, è una soluzione che ridia dignità alle persone e non che ridia come dire sangue a una politica o a una certa politica, cerchiamo di vedere veramente come andare incontro alla necessità della persona nella sua dignità. Cambiamo argomento, cambiamo argomento e ecco parliamo, il vuoi il titolo, la deriva della relazione educativa, un articolo in cui parlate di due eventi che hanno un po' turbato e hanno posto tanti interrogativi nella società, due cose sono successe nella scuola, da una parte degli alunni che sparano con i gommini all'insegnante e dall'altra un insegnante che reagisce a un comportamento forse non l'unico ma a un reiterato comportamento di alunni e reagisce in modo spropositato in quel momento, però questo appunto come ditevo nel titolo deriva di relazione educativa. Sì, sì, a me ha colpito questa riflessione, non perché sia una riflessione come dire che ha inventato chissà che cosa, però questa è una medaglia che ha un diritto e un rovescio, un diritto ovviamente negativo, un diritto che è quello dell'assurdità per una situazione educativa di un ragazzo che usi, ci risiamo la pistola anche se ad aria compressa, non una pistola proprio vera, per puntarla e sparare contro l'insegnante e colpirla. E il rovescio della medaglia è della situazione dell'insegnante che non ce la fa più e in effetti non ce la fa più, non sa come reagire e reagisce istintivamente. Questo dovrebbe farci riflettere, perché chi dice male famiglie, male famiglie, qualcun altro potrebbe dire ma gli adulti, perché vero è solidarietà, perché la situazione scolastica è veramente al limite e alcuni ragazzi non sono gestibili, tra virgolette, facilmente, questo è vero. E purtroppo la scuola ha sempre meno strumenti istituzionali per gestire questa forma di emergenza. Ma andiamo un po' a monte però. Oggi si parla tanto di emergenza educativa, ma parliamo di scuola per esempio, ma chi oggi veramente si è posto il problema che forse la scuola di oggi, così come è strutturata, è la stessa scuola della società appena industrializzata, addirittura del dopoguerra. Cioè tante situazioni dalla riforma gentile ad oggi non sono cambiate sostanzialmente. La società però, la società è cambiata totalmente e continua a cambiare. La problematica della relazione educativa non è tanto tra insegnante ed alunno, è anche tra scuola e famiglia, ma all'interno della famiglia oggi si pone il problema, ed è di fatto evidenziabile, tra genitore e figli. Cioè qual è il rapporto più giusto e più corretto tra genitori e figli e se vogliamo tra famiglia e società. Mentre prima l'istituzione familiare era istituto famiglia e aveva un suo codice, oggi i codici sono labili e certo siamo in una società liquida, bisogna ritrovare dei punti di riferimento a questa liquidità. Probabilmente la realtà è nuova, la scuola come istituto è vecchio ed è vecchio e ci stanno male i ragazzi, ma ci stanno male ancora di più gli adulti, gli educatori, gli insegnanti. Qua non si vuole puntare il dito contro nessuno, perché la situazione è complessa. Certamente però non è l'intervento dell'aggiungere merito, per esempio, ma scusatemi perché dell'aggiungere merito, del Ministero di Istruzione del Merito. No, qua dobbiamo riflettere e vedere come se la società è totalmente cambiata in questi ultimi anni, la scuola, il rapporto educativo, le modalità di porre le relazioni educative devono cambiare e la scuola della cattedra e dei banchi probabilmente non risponde a una domanda formativa del giovane di oggi. La chiudo qui. Come si fa a interrompere Salvatore quando è difficile da interrompere? Però io volevo citare, Salvatore, anche, e questo lo vediamo, il tuo editoriale, dove dici bravi insegnanti, saggi educatori. E lì, ricollegandoci a quello che stavi dicendo, poi parli anche del contratto che è stato siglato, finalmente siglato, una cosa diciamola, non è che gli insegnanti, come si diceva, hanno avuto l'aumento di stipendio equiparato a livello europeo, non è così, non è così. È un primo passo, è un primo passo e vabbè, lo guardiamo come nota positiva. Ma tornando, dici bravi insegnanti e saggi educatori. Si collega benissimo il tuo editoriale? Sì, cioè non farmi continuare. E dobbiamo parlarne per forza. Non farmi andare oltre, non sono parole mie, ma sono parole di Papa Francesco, le parole che Papa Francesco ha rivolto in occasione dell'Assemblea Mondiale degli insegnanti ed educatori cristiani. E il messaggio che ha dato il Papa Francesco, secondo me, non è solo per i cristiani. Certo che i cristiani devono dimostrare di avere una marcia in più. Io qua lo volevo scrivere, però non ho scritto sull'editoriale, ma lo dico adesso. Tanti insegnanti cercano di mettere dietro, scusate l'espressione brutta, ma quasi si vergognano di essere cristiani. Ed altri invece non si vergognano per niente a proporre delle ipotesi di progetti a dir poco discutibili. E non voglio entrare in merito a nessun argomento. No, Giuseppe, mi rifiuto di rispondere perché dovremmo dedicare una trasmissione ad hoc di come, di come, cioè se io sono quel che sono, devo testimoniarlo. Ed è bene testimoniarlo. Non perché la scuola, cioè ci risiamo, ma qui ne parleremo in seguito, anche perché la scuola deve essere laica, io devo nascondere il mio essere cristiano. Ma scherziamo? Lo chiudo qui. Sì, sarà argomento di altre puntate. Concludiamo adesso questa nostra rassegna di oggi. Sia Salvatore come Araldo e anche io come Teramo Webber, vogliamo ricordare Don Tommaso Cimini. Don Tommaso Cimini, per chi l'ha conosciuto, era un sacerdote unico, possiamo dire unico? Sempre col sorriso, sempre col... io ogni volta le incontravo, Cristo Regni, Cristo Regni, sempre col sorriso, con la canzoncina dedicata alla Madonnina. Era un sacerdote veramente, veramente unico, secondo me. Sì, sì. È un sacerdote, un sacerdote del, come dire, della vecchia maniera, ma della vecchia maniera che sapeva comunque decodificare il messaggio cristiano nelle relazioni interpersonali, sempre cogliendo gli aspetti positivi, con una dinamica veramente unica. Io ho avuto la fortuna di conoscere anche Don Tommaso, non stava mai fermo, sempre con un'iniziativa di mo' devo fare questo, mo' devo fare quest'altro, mo' sai c'è questo problema, devo risolvere questo problema, veramente la vicinanza alle persone lo ha caratterizzato per tutte le sue iniziative e anche per la sua forte carica umana e di questo è un bel esempio, questo che dovrebbe guidare un po' tutti noi. E facendo proprio nostro il titolo che appunto Don Giulio Marconi ha messo grazie Don Tommaso, questo grazie veramente da parte di tutti i fedeli, di tutti i fedeli delle varie parrocchie dove Don Tommaso è stato. Bene Salvatore, ci fermiamo qui e ricordiamo come sempre l'abbonamento all'Araldo, come ogni volta noi ci ricordiamo di fare, bisogna quindi comprare l'Araldo, leggere l'Araldo, lo sto dicendo tante di quelle volte che ormai mi viene automatico, però leggete, questa settimana è veramente interessante. Bene, allora grazie Salvatore, grazie a voi di averci ascoltato e appuntamento alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie. Grazie.